Ben trovati a questo nuovo appuntamento con speciale interviste. Tra qualche ora andrà finalmente in archivio questo 2016, un anno particolarmente intenso con una serie di eventi che si sono verificati che resteranno sicuramente a lungo nella memoria di chi li ha vissuti. E noi come Teledeon abbiamo voluto rivivere insieme tutto questo anno con i servizi giornalistici andati in onda nei vari Tg che saranno riproposti mese per mese ogni sera fino alla prossimo, alla domenica successiva all'Epifania. Un modo per rivivere insieme appunto gli eventi di questo 2016, ma è un 2016 che merita di essere anche approfondito complessivamente per una serie di appunto eventi che si sono verificati. Ed è per questo che siamo in compagnia di padre Francesco Mazzotta e grazie per essere con noi, direttore responsabile di Teledeon con il quale abbiamo vissuto questo lungo intenso 2016. Innanzitutto, prima di entrare nel dettaglio dei vari argomenti, possiamo dare anche un giudizio generale? Guarda, stavo riflettendo mentre facevo l'introduzione, mi ha colpito la parola finalmente, perché sai, in inglese c'è finally, per dire infine, però finalmente in italiano suona come una cosa negativa. E per fortuna è finito. E io, diciamo, su sta cosa comincio ad avere un po' paura, perché noi ci auguriamo sempre che il nuovo anno sia migliore del precedente, eccetera. Però purtroppo la storia di questi ultimi anni ci dice che non è così, almeno in Italia non è così. Ogni anno disastri di varia natura, l'economia che non decolla, poi abbiamo il terrorismo internazionale, eccetera, i terremoti quest'anno, l'incidente ferroviario ad Andrea. Come dire, quando abbiamo toccato il fondo ci tocca scavare. Scavare, abbiamo abbondantemente scavato sotto, no? Mi ricordo, questa era una vecchia battuta di Beppe Grillo quando faceva il comico, in uno dei suoi spettacoli, dice, noi abbiamo toccato il fondo, in realtà siamo andati a scavare leggermente sotto, qualche decennio fa. A storia si è fatto proprio il pozzo, abbiamo trovato il petrolio, voglio dire, no? Quindi non so mai se augurarmi di rimanere ancorato con tutte le zampe all'anno precedente, perché se l'hanno in corso è stato così, figurati quello che arriva dopo. Se queste sono le premesse, figurati che cosa succede dopo. Pensate, per esempio, in tutto il caos che stiamo vivendo in questo momento per la questione delle frequenze, delle incertezze. Ci arriviamo, ecco, ci arriviamo poi nel dettaglio. Io partirei dal livello... Ecco perché il giudizio generale è finalmente... Finalmente lo racchiude. Ecco, io partirei però dal dato complessivo. Siamo, è una cosa avvenuta lo scorso 4 dicembre, gli italiani si sono espressi con il referendum di fatto bocciando il governo Renzi che poi è stato costretto per questo a dimettersi e si è aperto poi il governo Gentiloni. Ma quello è soltanto forse il punto terminale di un percorso. Dal punto di vista politico che cosa ci lascia questo 2016, secondo te? Ma io anche qua ho delle grosse perplessità perché il problema reale nostro è, da un lato, il problema della corruzione che è sempre più spaventosa, che parte dai punti più alti, quindi dai vertici dello Stato, fino ai punti più bassi. Tocca le singole persone, quindi è una maglia che dilaga a vari livelli. A questa cosa si aggiunge anche molto spesso l'incompetenza di chi di fatto dovrebbe governare, dovrebbe avere cognizione di quello che fa. E questo non soltanto a livello politico, ma anche a livello dirigenziale, a livello dei funzionari, dei vari ministeri, dei vari apparati dello Stato, dei vari apparati dei comuni, delle regioni. Che poi diciamo sono proprio l'ossatura vera dello Stato, sono quelli che poi prendono le decisioni, perché la nostra classe politica ultimamente, negli ultimi vent'anni, ha dato dimostrazione di non essere all'altezza di guidare il Paese autonomamente, senza il supporto della macchina amministrativa. Sì, perché la cosa impressionante è proprio questa, cioè la cosa che poi fa scoraggiare sostanzialmente, perché tu non vedi la luce, ecco perché dico 2017, non è che abbiamo davanti agli occhi delle risorse davvero, nel senso che poi arriva il politico di turno e ti dice questo è un grande Paese, dobbiamo risollevarci, eccetera, eccetera. Sì, e quali sono le leve, quali potrebbero essere? Perché anche movimenti come quello dei Cinque Stelle, che hanno fatto della battaglia della legalità uno dei loro caposaldi, poi alla fine ti rendi conto che non è davvero del tutto così, perché poi qualsiasi movimento è fatto di uomini, anche... La perfezione umana non esiste. Sì, nel senso che non puoi controllare tutto e tutti, ma questo vale addirittura per le realtà ecclesiali, no? Cioè adesso c'è lo scandalo, gli scandali di quelli che hanno gli appartamenti, i cardinali, quello e quell'altro. In realtà siamo tutti uomini, quindi come tali ci abbiamo dei pregi, ci abbiamo dei difetti, quindi questo vale per tutti, quindi vale anche per il movimento che si dichiara per la legalità assoluta, eccetera. Però il problema reale è che la legalità dovrebbe essere un presupposto, cioè l'onestà dovrebbe essere un presupposto, ma non basta essere... Non si sposa con la progettualità. Sì, con la capacità di... con la gavetta, cioè bastano dei like, mi piace per essere eletto perché tu pensi di poter gestire. Poi vedi che gli apparati di governo di Stato si paralizzano. Guardate la situazione di Roma, adesso io non voglio anche qua esasperare le cose, perché poi dopo in realtà non è che la conosciamo bene, la conosciamo perché quello che scrivono i giornali. Immagino anche che dietro ci siano delle campagne denigratorie a prescindere, quindi le cose sono più nere di quelle che dovrebbero sembrare, ci sta anche il riflettore puntato, per cui tutte le cose... È la capitale. Sì, ma anche perché è l'esperimento forse fondamentale del movimento. Però è certo che andando a Roma tu hai la percezione che è tutto bloccato, è tutto fermo. Quindi sì, magari non ci sarà il mangiamangia come c'era prima, ma non si fa nessuno. Una volta si diceva chi fa sbaglia, no? Sbaglia però fai. Se tu non fai, non stai svolgendo il tuo compito, il tuo lavoro. E questo l'Italia non so può più permettere. E la Puglia invece, secondo te, che momento sta vivendo? Io mi tengo abbastanza lontano dalla, come sai, dalla vita politica. Dalla questione politica. Dalla questione politica. Vedo però che da un lato anche qua c'è sempre più mancanza di risorse, di lavoro, si fanno chiacchiere sostanzialmente, ma non si vedono anche delle linee progettuali. E la difficoltà che noto sempre più spesso è che si dà sempre più retta a certi tipi di poteri e certi tipi di, come dire, di interessi, di gruppi di interesse e questo alla fine va a svantaggio di tutti. Anche perché laddove le risorse erano in un qualche modo ampie, le briciole arrivavano sotto il tavolo. Oggi che le risorse sono sempre più risicate, quelle briciole non arrivano più e la gente è allo stremo. Ecco, per venire invece alle questioni di casa nostra, ricordiamo che il 2016 è l'anno in cui si è portato a compimento il giubileo della misericordia. Secondo te che frutti è lasciato e che risultati ha prodotto questo giubileo che per la prima volta nella storia è stato diffuso su tutto il territorio del pianeta? Tutto il mondo ha vissuto il giubileo in casa propria. Non è stato più necessario neanche andare a Roma in pellegrinaggio. Molti lo hanno fatto, milioni lo hanno fatto, però ciascuno, anche le persone che non potevano fisicamente raggiungere Roma, avevano la possibilità di vivere il giubileo in casa propria. È difficile tirare somme di sta roba. Poi tra l'altro per noi questo giubileo, ricordiamo, si è incastrato anche col giubileo della spina, è andato a cavallo di quello. Lo ricordo qua perché semplicemente ho l'impressione che il poggiare troppo oppure dare troppo risalto all'aspetto giubilare, perché negli ultimi anni c'è stato un susseguirsi di giubilei, sembra quasi che i papi che insomma sanno che non dureranno molto si affrettino a mettere in funzione questa cosa qua, in realtà poi faccia perdere davvero il significato. Cioè la straordinarietà non fa vivere la fiducia. Diventa ordinario. Quando una cosa diventa ordinaria alla fine perde il suo significato fondamentale. Io so che comunque magari è come una storia dei condoni, voglio dire, no perché poi alla fine qualcuno mi sparerà dopo questa... ma è così. Se io so che sostanzialmente fra un anno, due anni, tanto mi arrivo il condono, faccio come mi pare. Non lo vivo più come un evento di fatto di conversione, di cambiamento. È fuori di dubbio che più che il giubileo in questo momento sicuramente è la figura del Papa, la figura di interesse generale. E' una cosa che però continuo a ripetere, continuo a dire che una figura, quella del Papa, che poi va bene per tutti, un po' mi fa riflettere. Cioè se prendete anche i giornali italiani da Repubblica, quindi forse anche il Fatto Quotidiano, non leggo molto, fino ai giornali di destra, non c'è nessuno sostanzialmente che parli male del Papa. E' possibile che quest'uomo di fatto riesca a mettere d'accordo tutti? Anche là, sì, è fuori di dubbio che alcuni passi, alcuni piccoli passi, alcune aperture sono state effettuate nei confronti della gente, no? Cioè sono state le aperture, per esempio, nell'ultima iniziativa, a margine del giubileo, il Papa ha aperto la possibilità a tutti i preti di assolvere dal peccato d'aborto, per esempio, no? Che era riservato, comunque è rimasto riservato. Di fatto, però, la cosa che viene codificata, non fa altro che codificare di fatto una prassi che già precedentemente esisteva, quindi sembra una cosa straordinaria perché è stata scritta, è stata ammessa formalmente, però di fatto esisteva precedentemente una clausola di emergenza, di urgenza, che praticamente tutti i confessori appellavano, applicavano e quindi praticamente la prassi già era quella, però di fatto c'è un'apertura, c'è una voglia di riconciliazione, c'è una voglia di dialogare con. Ecco, ma si percepisce nelle parrocchie, nelle chiese, questo cambiamento epocale che vuole portare Papa Francesco? Si percepisce fino in fondo? È soltanto un movimento superficiale. Secondo me, io anche qua non ho molto forse il polso della situazione perché vivo qui dentro, poi sostanzialmente, vivo in questa scatola che è la televisione. Questo non significa che poi siamo fuori dal mondo, ma l'impressione, almeno parlando con i preti, con i preti che stanno in pastorale sostanzialmente, e che poi molti dei preti, molti dei parroci, soprattutto delle zone più difficili e complicate, facciano difficoltà a trovare l'orientamento, perché Papa dice delle cose, poi la gente viene e ti dice, eh Papa ha detto, e quindi l'interpretazione diventa complicata. Quindi il parroco stesso, il prete stesso, fa fatica poi a portare avanti un discorso di pastorale, perché poi alla fine sì, l'apertura ok, ma l'apertura non significa che io poi alla fine posso fare come mi pare, perché se io la percepisco in questo modo finisce anche la logica della cristianità. Io ricordo una cosa, che non è che è obbligatorio essere cristiani, ma una volta che tu la scegli, ti devi comportare di conseguenza, non è che puoi fare come ti pare, oppure sei cristiano quando mi conviene, quando ti conviene, dopodiché fai un'altra cosa. Cioè, c'è secondo me una percezione un po' distorta, oppure il rischio è di arrivare a una percezione distorta della realtà all'interno del territorio, cioè all'interno della sigla parrocchia. Eppure soprattutto tra i giovani c'è una sorta di grande risveglio, lo ha dimostrato quest'anno, proprio il 2016, con l'incredibile partecipazione, oltre 3 milioni di giovani da tutto il mondo che si sono ritrovati in Polonia, a Varsavia in particolare. Ci siamo stati anche noi. Ci siamo stati, abbiamo seguito giorno per giorno con Luca Ciciriello, con Barbara Lomuscio che ci mandavano delle cronache quotidiane, abbiamo visto uno straordinario popolo giovane in cammino sulle orme di Papa Francesco. Questo sicuramente è un segnale positivo. Diciamo sulle orme di Cristo, perché poi alla fine è morto un Papa o dimesso un Papa se ne fa un altro. È un cammino, è un flusso che più o meno si sta mantenendo costante addirittura in crescita dalla sua origine. La prima giornata mondiale alla gioventù non era ancora prete e partecipai anch'io in Polonia a Cestocova, fatto da Giovanni Paolo II, quindi voluta, e c'erano più di un milione di persone. Anche là, questi mega raduni, sì, saranno importanti, sono belli perché comunque vedi la vitalità, soprattutto i ragazzi, anche la fatica. Tra l'altro il primo giubiliero facciamo proprio, almeno noi, cioè la prima giornata mondiale, la facciamo come un cammino penitenziare, facciamo quasi 250 chilometri a piedi di pellegrinaggio senza praticamente nulla, mangiando una volta al giorno, cioè è stato un momento duro, è stato un'avventura sostanzialmente dove i ragazzi si buttano, ti lascia qualcosa, eccetera. Però poi alla fine l'evento in quanto tale non va da nessuna parte se non c'è la costanza. Non viene gettato, poi non viene riportato nei territori. Non viene coltivato, non c'è la costanza di portarla avanti in un certo modo e purtroppo anche qua dobbiamo vedere se questo davvero sia, diciamo, se c'è questa continuità vera. Io, uno degli aspetti su cui sono rimasto negativamente colpito è stato il concerto, per esempio, che abbiamo dato in diretta, un concerto tra l'altro in cui ci tagliarono il cavo della diretta, qualcuno forse ricorderà. Quest'anno è stato un anno interessante, sicuramente. dei giovani a Piazza Catuma, era appena arrivato anche il Vescovo Nuovo, i ragazzi non erano molti, cioè i ragazzi della diocesi poi alla fine, la piazza era semivuota, eppure la zona attorno a Piazza Catuma è piena di ragazzi, ragazzi che vanno nei locali, ragazzi che si ubriacano, ragazzi che scherzano, giocano, che combinano tutti i colori, il filmato anche dei due che fanno sesso attaccati alla cattedrale di Andrea, diciamo, ha fatto epoca, quindi anche questo è un frutto di quest'anno. In una piazza, dove comunque stai facendo un concerto, dove ci stanno dei ragazzi, vedere che poi alla fine questi ragazzi non riescono a coinvolgere, a portare dietro a loro i loro coetani, fa riflettere, come mi ha fatto riflettere ultimissimamente il 24 notte, quando siamo andati per la veglia in cattedrale, il fatto che la cattedrale semivuota, ho fatto la battuta dicendo che sembra una diretta dal Senegal, perché molti erano immigrati di colore di quelli presenti in chiesa, poi c'erano quelli della comunità e nemmeno i ragazzi, c'erano gli adulti della comunità della parrocchia di San Francesco, che è la parrocchia del centro, la parrocchia nel cui territorio sta anche la cattedrale di Andrea, quindi la chiesa semivuota, arriviamo in chiesa, attraversiamo questa piazza, la parrocchia centrale di Andrea, la parrocchia Catuma, tutta piena di birre, zozzerie, mondizia, pane natura, sarebbe stato da fare veramente un servizio, ormai deserti, dove i ragazzi sono ubriacati, eccetera, in chiesa non c'era nessuno di loro. Quindi diciamo che anche qui la mancata abitudine degli andriesi ad andare a messa la vigilia, perché anche per vent'anni, per venticinque anni non si è fatto, quindi riprendere è un po' più complicato. Sì, però la riporto nel senso di dire, sì, abbiamo il raduno, abbiamo i mega raduni, tra l'altro Andrea, almeno anche per i nostri padri, io sono quattro anni che sto qua, sostanzialmente, quindi non è che l'ho vissuta per i racconti dei nostri pari. Però noi qui avevamo un grosso seminario minore a Barbadangelo, avevamo decine di ragazzi tutti gli anni, anche il seminario minore di Andrea era pieno. Siamo in un terreno dove i preti diocesani ancora ci stanno, perché il seminario maggiore di Molfetta ha circa 300 seminari stilanno complessivi. Quindi voglio dire, siamo in un territorio fertile da questo punto di vista, eppure oggi ormai si fa fatica a incontrare i giovani, a intercettarli. Vediamo la fatica che fa Alessandra, l'ha fatta l'anno scorso cercando di coinvolgere le scuole, quest'anno stiamo provando con l'oratorio salesiano, ma anche là non è che i numeri sono alti. Ecco, quest'anno, questo 2016 ha visto Andrea protagonista di una serie di eventi, alcuni positivi, altri molto meno. Cominciando da quelli di Chiesa, indubbiamente l'arrivo del nuovo Vescovo, una figura che sicuramente sta dimostrando in questi mesi, in questi primi mesi di attività, un grande entusiasmo, grande voglia di dare una scossa a questa comunità. Come la interpreteremo? Sicuramente uno dei frutti forse più evidenti di questo pontificato, che poi si ripercuote sul territorio, è la scelta dei pastori, dei nuovi pastori, dei vescovi, dei cardinali. E guardiamo 5 in Puglia nel 2016. Sicuramente il Papa sta utilizzando dei criteri che sono dei criteri più pastorali, non sono dei criteri che guardano ai titoli di studio, appunto, alla comprovata dottrina, non so che cosa. Sta cercando delle persone che sono capaci di stare con, di sentire l'odore del greggio, fondamentalmente. Mi colpiva l'altro giorno che, non so chi, proprio a Canosa, diceva che il vescovo era andato per un evento nella concattedrale di Canosa e poi lo volevano portare con la macchina fuori dalla città e lui dice no, io voglio farmi due passi a piedi. Eh ma eccellenza. Dice no, vabbè, si devono abituare che c'è un vescovo che cammina, che è con loro, è uno di loro. E questa è una cosa spettacolare perché siamo abituati a vedere dei vescovi, appunto, che sono ieraticamente presenti nelle celebrazioni, eccetera, ma sostanzialmente sono staccati, distaccati dalla gente, camminano nelle macchie, vanno via subito, vengono per la celebrazione e poi spariscono. Quindi avere la percezione di pastori che stanno, un po' come il parroco di periferia. Il parroco dei parroci. Il parroco dei parroci, ecco sì, sicuramente, è una cosa sicuramente interessante che fa sentire la Chiesa più vicina alla gente comune, quindi può aiutare la gente comune a riavvicinarsi alla Chiesa, quindi a partire dai ragazzi stessi che sono sensibili a queste cose. Penso che il dono, no, di un pastore di questo tipo, il problema adesso è che mi trovo anch'io in imbarazzo perché non posso nemmeno parlare mai del pastore precedente e non lo voglio fare. Tra l'altro, tra l'altro, a Monsignor Calabro deve andare tutta la nostra stima, il nostro affetto e la nostra preghiera perché anche le sue condizioni di salute non sono state buone e non lo sono tuttora. Come negli ultimi anni. Non lo sono tuttora, quindi sicuramente. Però è chiaro che la figura di questa tipologia di vescovo, stessa cosa probabilmente a Cerignola dove abbiamo Monsignor Renna, no, che è stato per anni rettore del seminario maggiore di Molfetta e quindi una persona molto affabile, abituata a stare con i ragazzi, con la gente in generale. Questo cambio di passo è sicuramente la strada migliore per riconciliare le realtà della Chiesa, soprattutto quelle più lontane, con la Chiesa stessa, no? Cioè riportare nell'ovile quelle che se ne scappano, che non ci vogliono entrare. Perché quando poi si dice la Chiesa è in uscita o guardare dalle periferie, perché anche qua molti utilizzano questa espressione del Papa e forse non l'hanno capito o sono io che non l'ho capita, perché incomincio ad avere dei dubbi, perché quando tutti dicono una cosa e tu dici un'altra, evidentemente c'è qualcosa che forse in quello che percepisco io non c'è. Il Papa non dice che bisogna andare alle periferie. Questo oggi diceva già Giovanni Paolo II, dice un'altra cosa, che bisogna guardare. Da per scontato che tu in periferia già ci stai e in certe situazioni è vero che sei in periferia, perché la Chiesa ormai è periferia in tante zone. Periferia vuol dire che non è più non si è più maggioritario, non si è più l'elemento, il punto di riferimento, quindi già ci stai in periferia e ti dice da quella periferia tu devi saper guardare verso il centro, cioè devi saper guardare la realtà a partire da quella periferia. Ecco, altro evento straordinario di questo 2016 è stato sicuramente il giubileo della Sacra Spina che si è conclusa per quanto riguarda Teledeon con una diretta durata 36 ore senza alcuna interruzione, con uno sforzo straordinario di tutti i collaboratori, di tutti quelli che lavorano per questa emittente. Ma indubbiamente è stato un segno importante, ricordiamo che il prossimo prodigio della Sacra Spina è previsto intorno alla metà del prossimo secolo, quindi sicuramente nessuno di noi avrà la fortuna di riassistere. A meno che non ci congelano. A meno che non siamo inbannati e risolviamo il problema. Ma però diciamo che abbiamo assistito davvero a un evento prodigioso anche per i frutti che dà poi nell'immaginario collettivo e nel senso di comunità. Sì, sicuramente anche questo è stato un evento almeno per chi come me in fondo non è abituato, non l'ha mai vissuto perché so quanto anche i nostri padri andriesi che vengono da Nandre ci tengono a questa cosa e quindi l'hanno sempre raccontata. L'ultimo evento non era stato nemmeno... L'ultimo era il 2005, intorno al 2005. Quello precedente è 1930-32. Quindi diciamo non è che sono stati molto in là nel tempo. Quindi c'è gente che se la ricordava, soprattutto l'ultimo. Quindi magari per molti di loro non era una novità, non è stata una novità. Per me lo è stata. E vedere il flusso enorme di persone che compostamente si è avvicinato alla spina un po' per curiosità, un po' per devozione vera, eccetera, comunque è stata una cosa interessantissima, straordinaria. Il fatto anche che in televisione questa cosa è stata seguita da tantissima gente. Ricordiamo che abbiamo avuto commenti da tutta la Puglia, in realtà da tutte le regioni che tocchiamo, perché nel corso del 2016, lo ricordiamo, Teledeon ha coperto la Basilicata, la Calabria, alla fine dell'anno anche la Campania, parte del Molise, quindi abbiamo avuto una eco straordinaria. E' straordinaria, ma non solo, anche perché in quella giornata, non mi scorderò mai, noi quest'anno abbiamo rafforzato la nostra presenza anche sulle piattaforme internet, quindi abbiamo creato delle app che vanno sugli smartphone e anche sui tablet, poi anche sulle smart tv, eccetera. Noi riusciamo a essere presenti anche al di là del muro mezzo televisivo tradizionale. In quella giornata abbiamo avuto più di 10.000 contatti solo da internet, praticamente da tutte le nazioni del mondo, gente che ci ha ringraziato anche dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall'India, addirittura qualcuno in Cina, quindi qualche infiltrato, saranno andriesi che sono sparsi dappertutto. No, è interessante questa cosa, cioè come quest'evento, sostanzialmente, che è un evento di nicchia, è diventato un evento globale. Dopodiché, se ci fermiamo anche qua all'esteriorità dell'evento, alla gemma che è uscita fuori, che manco si vede, se non con la lente di ingrandimento, e perdiamo il senso di quello che questa cosa sottende, allora alla fine serve a poco. È stato semplicemente un grande show e niente di più. E finisce qui. Per venire invece alle cose di casa nostra reali, Teledeon indubbiamente ha vissuto un anno molto, molto intenso. Ricordiamo il pasticcio enorme compiuto dal governo precedente che ha assegnato le frequenze in tutta la Puglia, ovviamente, non soltanto a noi, e poi a distanza di due anni le ha revocate perché ci si è accorti di aver assegnato più frequenze di quelle che si potevano assegnare, visto che altre erano destinate ai paesi esteri. E questo ha creato un ulteriore pasticcio perché poi nel revocarle si sono fatti figli e figliastri, ad alcune sono state revocate, ad altre no. Poi si è fatto un bando con la speranza che ci partecipassse poca gente, invece hanno partecipato quasi tutte le emittenti. E dobbiamo dire che Teledeon ha ottenuto, contrariamente a tutte le previsioni, grazie al lavoro soprattutto di padre Francesco Mazzotta, ha ottenuto l'assegnazione di una nuova frequenza. Questo ha innescato un'ulteriore complicazione perché poi bisognava riprogettare completamente la rete, cosa che è ancora in corso e che si completerà ancora nei prossimi due o tre mesi. Pertanto vi invitiamo di tanto in tanto a riaggiornare il vostro televisore facendo semplicemente l'aggiornamento dei canali perché possono esserci ancora delle variazioni. Per cui di tanto in tanto, qualora dovessimo sparire come segnale, basterà ripristinarlo risintonizzando il canale. Comunque in Puglia e Basilicata siamo sul canale 18, anche se in Basilicata in questi giorni è ancora fermo il segnale per una serie di altre questioni. e siamo comunque in Campania sull'888, sul canale 888, in Calabria sul canale 272 e sul canale 690. E copriamo poi parte del Molise. No, no, il Molise è spento pure e penso che difficilmente lo riusciremo a riacciare. Ecco, questo anno indubbiamente lascia una serie di pasticci ma il peso di costi sempre più pesanti solo in parte compensati dal rimborso ministeriale con contributi ministeriali che arrivano quando si ricordano e quando tentando di far morire, perché poi dobbiamo essere sinceri, dobbiamo dire che è in atto un tentativo di aggressione da parte del governo nei confronti di qualunque governo, non soltanto l'ultimo in carica, ma nel tentativo di far morire le televisioni private che sono considerate una scocciatura e non una risorsa del Paese. Guarda, questo purtroppo sarebbe un argomento che ci porterebbe molto lontano, dovremmo fare, non so, nemmeno una trasmissione, forse N trasmissioni, dove portare anche degli esempi a modi inchiesta, come fanno al report, non so che cosa, per far vedere tutta una serie di cose, probabilmente ci beccheremmo l'ira di Dio delle querele, ma va sicuro che uscirebbero delle cose interessantissime, perché proprio la vicenda che tu hai riassunto e che probabilmente per la grande maggioranza della gente è assolutamente sconosciuta, poi forse non interessa manco a tante persone, se non per il fatto che poi magari ti vedi sparire il canale e quindi chi è affezionato a quel canale potete venire a chiamare o ti fa, eccetera, eccetera. Beh, in realtà questa vicenda in piccolo, perché comunque è una vicenda di nicchia, anche se per noi è grossa, perché io lo dico sempre, è la nostra esistenza, io lo dico sempre, dice, le croci degli altri pesano sempre di meno rispetto alla croce mia, anche se sono più grosse, perché la croce se la deve portare quell'altro, se me la devo portare io, la croce mia mi pesa, cioè è inutile che stiamo lì a girarci attorno, però, per esempio, questa vicenda è la vicenda in cui tu vedi da un lato i livelli di corruzione dello Stato e quindi che prendono tutti i livelli statali, quindi dai vertici fino ai cittadini comuni, è frutto anche della incapacità, dell'incompetenza a vari livelli. Dell'improvvisazione. Sì, dell'improvvisazione, perché poi alla fine sì, dei volta cabana, cioè di tutta una serie di cose che poi alla fine portano a dei pasticci enormi, portano a degli sprechi di enano pubblico enormi e portano alla difficoltà per una qualsiasi azienda televisiva oggi di poter fare business, di poter sopravvivere, di pagare gli stipendi, perché poi dopo vanno a parlare del lavoro, di quello e di quell'altro, e lì quando si parla di lavoro i sindacati strillano qui e là, eccetera, cioè nel senso che alla fine venitelo a fare voi in piano industriale e poi mi spiegate come lo dobbiamo portare avanti, quando tu non sai su quali risorse puoi contare, per quanto tempo ci puoi contare e su quali punti fissi. Pensate che, appunto, come ricordavi tu, a giugno 2014, quindi fine giugno 2014, se non ricordo male, ci è arrivato il decreto di assegnazione del canale 53 e la frequenza, non il canale logico, quello che mettiamo sui telecomandi, la frequenza 53 in Puglia per 20 anni. Tra l'altro ci è stata assegnata in maniera retrattiva dal 2012 perché si erano sbagliati nella prima, ce l'avevano scritta male. E già questa la dice lunga, che i tecnici del Ministero sbagliano, vuol dire che non sanno nemmeno cosa scrivono. Quindi, giugno 2014, retrattivamente ti danno questa cosa, quindi te l'hanno data per due anni prima, scordandosi che poi tanti atti compiuti precedentemente dal 2012 al 2014 non è che si possono cancellare perché tu mi hai scritto una cosa retrattiva, è un macello perché poi si... diventa un caos totale. Giugno 2014, novembre 2014, dicembre 2014, tre o quattro mesi dopo? Sì, esce fuori una delibera dell'Agicom, 480-14 cons, ma la ricorda a memoria, che dice che queste frequenze, tra cui quella del canale 53 della Puglia, sarebbero dovute essere dismesse di lì a poco. Cosa che si è perpetrata ed è stata portata a compimento ai primi di novembre 2016. Quindi dopo nemmeno due anni da quel decreto c'è stata elevata la frequenza. Nel frattempo sono stati messi a bando tre nuove frequenze. Ricordiamo che ne sono state tolte complessivamente in trove. No, di più. Ne sono state tolte. Allora, i MUX e la Puglia erano 18. Su 18 ne sono stati... Salvati 6. Se ne sono stati salvati 6. Quindi ne sono... 12. Ne sono stati dismesse 12 di quelle vecchie. Dopodiché sono state messe tre nuove frequenze a bando con delle caratteristiche completamente diverse, con dei vincoli completamente diversi. E noi, nella follia generale, abbiamo provato da questo punto di vista a partecipare a questo bando. L'abbiamo fatto... Io l'ho voluto anche in accordo con i superiori, eccetera. L'ho voluto... Ho voluto partecipare a questo bando come teledeono da solo. Senza mettere insieme un baraccone di... Di soggetti eterogeni che poi comunque portano difficoltà perché gestire diverse teste poi per noi diventa ancora più complicata perché poi i preti sono più facilmente ricattabili per tutta una serie di motivi. e ho partecipato a questo bando lavorando facendo un accordo di partnership con la società Itowers che è una società dell'area Mediaset ma sviluppandolo diciamo come teledeon da solo. Inaspettatamente perché abbiamo concorso contro anche colossi di caratura nazionale siamo riusciti ad ottenere una delle tre frequenze messe a bando dal Ministero. Erano il 24 che se l'ha giudicato Delta TV con un'intesa di altri soggetti il 58 che se l'ha giudicato Telenorba e il 60 che se l'ha giudicato appunto Teledeon da solo quindi terzo classificato e questa cosa è stata sicuramente una delle più grandi soddisfazioni frutto di un lavoro ricordiamo straordinario perché è destenuante perché di fatto questo lo possiamo testimoniare da fine aprile fino a fine giugno di fatto non ho mai visto padre Francesco nella sua stanza ma era sommerso dalle cose da fare in quelle settimane. Sì perché il band era complicato per cui più che lavorare su accordi più o meno poi che avrebbero letto più o meno fino a un certo punto o su giochetti di varia natura ho lavorato sul progetto abbiamo lavorato sul progetto abbiamo lavorato cercando di rispettare le linee del bando ministeriale devo dire che da questo punto di vista forse si è acceso un lumino perché poi alla fine mi sono detto che in Italia nonostante tutto forse c'è ancora spazio per l'onestà il lavoro l'abnegazione sarà minimo questo spazio però è una lucina di speranza in tutto il caos perché lo dicevo anche l'altro giorno a Vescovo Nostro un po' descrivendo questa cosa in realtà dice noi abbiamo vinto sto bando senza avere santi in paradiso se non quelli veri se non quelli veri e il Vescovo mi ha detto ti pare poco però i problemi non sono finiti nel senso che la frequenza assegnata paradossalmente non può concorrere legittimamente con le altre nel senso che quelli che avevano le frequenze vecchie possono fare quello che vogliono delle frequenze mentre noi abbiamo dei vincoli sia dal punto di vista dell'impiantistica sia dal punto di vista della contrattualistica completamente diversi praticamente si sono creati due regimi di concorrenza assolutamente sleali sì forse torno a ripetere la cosa interessa pochi ed è noiosa poi sì però è importante dirla almeno sì no no devo semplicemente dire che dal giorno in cui ci siamo aggiudicati questa frequenza siamo stati oggetto già noi stessi di atti di attenzione di attenzione siamo stati attenzionati che bella bella questa espressione è un termine non casuale non casuale siamo stati attenzionati per cui di fatto ci è ci è successo di tutto e di fatto la cosa adesso allucinante è che la frequenza del canale 60 oggi è vuota c'è solo sostanzialmente teledeon e fortunatamente ci hanno fatto accendere almeno l'HD tra l'altro chi sta in Puglia può verificare la qualità del 18 del 518 se avete un televisore HD spero che ormai ce l'hanno quasi tutti provate ad andare al 518 probabilmente non l'abbandonerete più abbiamo un canale 518 in questo momento attivo in Puglia che sicuramente c'ha la RAI forse Telenorba non lo so Mediaset ma non ma non ha nessun altro questo è un motivo di orgoglio grande per dire a che livello di professionalità di qualità siamo arrivati e siamo ancora con degli apparati che non sono nemmeno quelli definitivi dovremmo sistemare però abbiamo la roba nostra ci abbiamo dentro Teleradio Buon Consiglio e RTM due piccolissime realtà e non abbiamo potuto mettere nessuno un po' perché ci hanno fatto della concorrenza sleale quello che dicevi tu cioè i vecchi proprietari dei MUX che non hanno nessun vincolo eccetera possono permettersi qualunque prezzo prezzi anche stracciatissimi che noi non possiamo assolutamente fare e in più ci hanno fatto anche campagna negativa perché tu dicevi prima sintonizzata eccetera sì alcuni nonostante la sintonizzazione riescono a vedere ma non riescono a vedere se hanno detto perché perché il canale 60 non è buono perché sta vicino all'LTE cioè alla telefonia alla telefonia in realtà da quello che che ci risulta dalle misure che stiamo facendo in giro siamo ancora in regime provvisorio lo ricordiamo ci vorranno due o tre mesi per per portare tutto a compimento se non ci stanno altri particolari intoppi l'LTE non sta dando grandi fastidi e comunque basterebbe mettere un piccolo filtro di 20 euro 15 euro sull'antenna il problema si risolve laddove ci fosse questo problema qual è il discorso è che chiaramente la seconda maggioranza degli impianti sono vecchi molti sono tarati sulle frequenze precedenti 60 non ci stava e quindi in alcuni casi non basta risintorizzare ma bisogna chiamare un tecnico per fare risistemare l'impianto d'antenna 20, 30, 40 euro di chiamata si risolve il problema però per molti questa roba insieme alla sintonizzazione eccetera è un fastidio e quindi ci siamo sentiti dire da voi andiamo via perché voi non coprite la regione eccetera ma sono tutte fesserie perché effettivamente ci sono delle aree che in questo momento sono scoperte ma che saranno effettivamente riempite a breve ma nella stragrande maggioranza dei casi non è un problema dei nostri trasmettitori ma dei ricettori che hanno bisogno di qualche piccola messa a punto dopodiché il problema reale che oggi rimane è se io oggi sono assegnatario di una frequenza su cui ho dei vincoli enormi ho anche dei vincoli progettuali per cui devo fare le cose in un certo modo e torno a ripetere questo lo vedete dalla qualità della nostra programmazione laddove voi prendete il teledeon anche il 18 stesso che è un segnale ST è un canale in definizione standard voi vedete la differenza di qualità tra il nostro segnale e un qualsiasi segnale delle altre emittenti private della Puglia potete fare il paragone cioè il nostro segnale non va paragonato ai canali locali ma ai canali nazionali e vedete che ce la giochiamo praticamente alla pari ricordo anche che noi siamo sulle torri di Mediaset cioè noi stiamo sulle con le attrezzature similari con cui cammina Mediaset e con cui funzionerà dal primo gennaio la 7 cioè siamo là possiamo per concludere dire che questa può essere la base su cui ripartire nel 2017 cioè quel piccolo messaggio di speranza di luce che tutta questa vicenda ha lasciato può essere esteso ad altri campi ad altri settori nella vita quotidiana delle persone per immaginare un 2017 anche qui finalmente migliore io penso appunto che alla fine dobbiamo tirare noi fuori le energie però rimane il fatto che è inutile prendersi per i fondelli cioè io posso realizzare questa roba nel momento in cui da un lato ho dei benefattori che mi sostengono e quindi devo ricordare che Teledeon si sostiene con la donazione con la beneficenza delle persone e le persone si devono ricordare questo quando chiamano non si vede eccetera sì oltre a lamentarti che magari non si vede perché non fai lo sforzo di dire se facciamo un servizio aiutaci a farlo a farlo funzionare questo servizio perché non ci dobbiamo guadagnare io non sono stipendiato i soldi non vengono in tasca a me ma servono per far funzionare la baracca sostanzialmente e dall'altro però se da parte del ministero lo dicevi prima quindi dello Stato c'è la cattiva volontà di farti andare avanti perché qui stiamo parlando di costi che sono di centinaia di miliardi di euro l'anno qui una televisione come la nostra costa circa 6-700 mila euro l'anno non stiamo parlando di bruscolini e dove li vado a prendere non li posso andare a rubare non posso prenderli via con dei sotterfuggi per cui o trovo il modo poi questi 6-700 mila euro di recuperarli un po' dai benefattori un po' dai contributi un po' dalla pubblicità un po' da altre situazioni oppure alla fine non c'è possibilità cioè devi chiudere non c'è possibilità di speranza allora io dico sì ci vuole l'impegno e io sono convinto che l'impegno lo studio l'abnegazione su certe cose alla fine paga perché tu puoi fare tutto quello che vuoi i trucchetti puoi utilizzare quelli che vuoi ma tutti i nodi presto o tardi vengono a pettine quindi non vi preoccupate che così alla fine tutto torna però è certo che bisogna trovare le condizioni per poterla perché non è che entro certi range te la puoi cavare fuori da quei range non te la cavi più e allora siamo arrivati in chiusura di questo spazio ringraziamo padre Francesco Mazzotta che ricordo è il direttore responsabile nonché anche amministratore dell'emittente Teledeon ringraziamo tutti i nostri telespettatori per seguirci con tanto affetto e tanta passione nel corso di questi lunghi anni l'auspicio è ovviamente di ritrovarvi sempre più numerosi anche per il prossimo anno però possiamo fare almeno gli auguri per un buon 2017 a tutti sì facciamo come come suol dirsi un augurio di un sereno 2017 poi si sa che non sarà e non potrà essere sereno per tutti ma ma ci auguriamo che nel possiamo anche o perlomeno impegnarci a che il nostro 2017 quindi almeno per la parte nostra il 2017 possa essere migliore perché le cose diventano migliori lo dico sempre non quando cambiano gli altri ma quando incomincio a cambiare io e allora grazie per essere stati con noi buon 2017 a tutti i nostri telespettatori a tutti i nostri